La chiese di Bi Mercati Arialdo, Torriani di Valerio Torriani, Torromacco Umberto, Tosino Orfeo, Totis Renato, Trattoria Bianucci, Trattoria Casa Fontana. Eccolo, 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 non è Hitchcock e papà. Trattoria Giovanni, Trattoria La Verita di Paoletto Giovanni, Parca Ricci, Parcao Letizia e Bello Angelino, Patti Monella, Vecchio Forno di Mascheroni Miriam, Venturini Darla. Col cuoglio spalancato.